Iscritto a parlare il deputato Di Battista, prego. Grazie Presidente. Il 9 ottobre del 1967, 46 anni fa, venne ucciso a Laighera, un piccolo paesino nelle montagne boliviane, Ernesto Guevara della Sierna, detto il CE. Per qualcuno un assassino, d'altro canto lo era anche Giulio Cesare, per altri un mito da stampare sulle magliette, per me solamente un uomo, un uomo che ha fatto la storia, che ha sconfitto una dittatura, che è arrivata al potere, che anziché restare a Cuba, nonostante fosse ministro dell'industria o presidente del banco cubano, ha scelto di andare a combattere in Congo, la sua impresa fallimentare, ha scelto di andare a combattere assieme ai contadini che neanche conosceva in Bolivia e lì è stato ammazzato. E al soldato che gli sparò, gli tremava la mano al soldato e prima che lui sparò il CE gli disse tranquillo, stai solamente andando ad uccidere un uomo. Ecco, al di là dei giudizi che possono essere contrastanti, il CE ci dà un grande insegnamento, quello che può fare una fervida volontà di un essere umano. Grazie. Grazie.